Ti invito a iscriverti al canale e, se il video ti è piaciuto, lascia un like. Grazie per l'attenzione. Passiamo ora alle ultime notizie. La passione di Elodie per Andrea Iannone è inarrestabile, e la cantante ha colto l'occasione per dimostrare il suo sostegno al compagno durante il suo trionfale ritorno in pista. Dopo quattro anni di stop forzato a causa di una squalifica, Elodie ha celebrato il podio di Iannone nella Superbike con parole cariche di amore e ammirazione. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità. Grazie per l'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ti amo. L'entusiasmo di Elodie ha ricevuto il plauso anche da Belen Rodriguez, ex compagna di Iannone, che ha commentato, quanto sono felice. La determinazione e il cuore buono vincono sempre. Siete una favola. Questo gesto ha sottolineato la solidarietà e il supporto reciproco tra le due donne nei confronti dell'ex campione di MotoGP. Anche Melissa Satta ha condiviso il suo entusiasmo sui social con Emoticon che rappresentavano applausi. È evidente che il ritorno di Iannone in pista non ha solo emozionato i fan, ma ha anche unito coloro che lo sostengono nell'arena dello sport e oltre. Non dimenticare di iscriverti al canale, per noi è importante. Grazie ancora per il tuo supporto.